La creazione di cardinali per Francesco ha uno scopo preciso. Il cardinale, disse il Papa nel 2015, nel concistore del 2015, evoca il cardine, come il cardine di una porta, quindi non qualcosa di accessorio, di decorativo, che faccia pensare quasi a una onorificenza, ma un perno, un punto di appoggio e di movimento essenziale per la vita della comunità. Quindi Francesco ha scelto 13 uomini che siano un punto di appoggio, ma anche di movimento. E si può cogliere quindi una doppia direzione nelle nomine cardinalizie. Una è quella più istituzionale, se vogliamo, quindi legata a uffici di perno e movimento, quali di Castelli della Curia Romana. L'altra la definirei profetica, cioè capace di indicare una direzione di movimento per la Chiesa Universale. E mi piace vedere all'interno di questa visione profetica anche le nomine cardinalizie di padre Mauro Gambetti, custode generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, e padre Raniero, canta la messa, predicatore della Casa Pontificia. L'uno conventuale, francescano conventuale, l'altro francescano cappuccino. La figura di padre Gambetti, in quanto custode generale del Sacro Convento, rappresenta in qualche modo il carisma francescano. Cioè, rappresenta Francesco nella visione che il Papa ha assunto sin dalla sua elezione, scegliendo appunto il nome del Santo di Assisi come nome da pontefice. Questo sta a significare che il carisma francescano deve permeare sempre di più la Chiesa, essere al centro della Chiesa, un segno molto forte, quindi. E poi padre Raniero canta la messa, predicatore della Casa Pontificia, quindi la persona che annuncia la parola di Dio e lo fa alla Casa Pontificia e le sue prediche sono note in realtà in tutto il mondo, sono diffuse in tutto il mondo. L'importanza della parola di Dio, l'importanza della predicazione vengono sottolineate dalla figura di questo frate che tanto è colto e nello stesso tempo tanto è capace di seminare la parola di Dio. Voglio notare anche che ci sono delle nomine cardinalizie che riguardano Chiese piccole, quindi Chiese che non rappresentano comunità molto vaste, addirittura Chiese dello zero virgola, potremmo dire. In questo senso mi piace quasi vedere come Francesco scelga la dimensione della minorità, come i frati minori, cioè dove in fondo il seme è piccolo ma può dare frutto, quindi non è il criterio della potenza, della rappresentanza a valere, ma è il criterio del seme che ha potenza di crescita. Mi piace di vedere un segno francescano anche in questo. Quindi comprendiamo che in qualche modo possiamo dire che Papa Francesco annuncia il Vangelo anche con le nomine dei cardinali che evidentemente ha anche una dimensione pastorale. annuncia il Vangelo dei piccoli, dei poveri, il Vangelo dei minori che però è quello che sa essere lievito per il mondo.